Il ProArce è un apprezzo che serve per migliorare la forza e la flessibilità della capiglia. Esistono tre livelli di resistenza per le moglie, si possono mettere in alto, una bassa resistenza, una media resistenza al secondo livello, una forte resistenza al terzo livello. Esiste poi un supporto molto importante per la volta a plantare, che può essere, può andare in su e in giù e si può fermare nel punto esatto dell'alto plantare. Infiliamo il piede all'interno del ProArce e agganciamo la cinghia passandola dietro sul tenere di Achille. Stendiamo il ginocchio e lo manteniamo teso per tutto l'esercizio. Tiri le dita dei piedi verso l'alto, prendendo il respiro e trattenendolo per tre secondi, rilascia la tensione delle dita e li attivi verso il basso lasciando l'aria. Tiri, trattieni la posizione per tre secondi, rilascia e attivi. Tiri, tira per tre secondi, rilascia e attiva. Adesso puoi venire in cambra in avanti, posizionando le mani qui sul ProArce, mantieni il ginocchio sempre teso e tira per tre secondi, stesso esercizio, rilascia e attiva le dita, tira le dita verso l'alto, rilasciale e le attivi. Tira verso l'alto, rilascia e attiva. Vieni su lentamente, tieni la gamba, togli il piede, fai un tanto di più, esatto, e ti assicuri di rimanere bene le dita. Tira verso l'alto, rilascia e attiva. Tira verso l'alto, rilascia e attiva. Tira verso l'alto, rilascia e attiva.